E' nata rana nina e' nata rana nina oh nina E' n'esci gantio e balla, sa pure che ti aspezza oh nina E' nata rana nina e' nata rana nina oh nina E nel gigante balla, st'amore che ti aspetta un'ina Un rombinella che in passi di rumare Fermati in un momento, dai a parlare La mia amica dammi, devi stare La lettera non ci fa, allora mi amore Lottare di sangue la voglio bagnare E a pensi di un cemento lo provo Questa sera siamo qua perché in collaborazione con il comune di Palizzi e con la condotta Slow Food è stato organizzato un evento che per noi è assolutamente importantissimo perché è il primo di una serie di eventi che il parco organizza sotto il nome di Expo e Territori Aspromonte, la montagna sullo stretto, storie di bergamotto e oltre Il Ministero dell'Ambiente ci ha chiesto di organizzare una serie di eventi una serie di iniziative sul territorio che potessero essere legate ad Expo E questa è la prima iniziativa che il parco organizza e da qui in poi ci saranno tutta una serie di eventi organizzati appunto su tutto il territorio del parco Il prossimo sarà il 25 a Reggio Calabria in Piazza De Nama insieme a collaborazione con il museo Sarà sempre presente la condotta Slow Food Reggio Calabria Regre Canica che organizzerà un cooking show Oggi è bellissimo essere qua a Palizzi è uno dei borghi che rischia maggior rischio di spopolamento del parco nazionale d'Aspromonte Ci auguriamo che queste iniziative possano collaborare ad aiutare le persone a trovare una ragione per rimanere in questi meravigliosi e stupendi luoghi dell'Aspromonte Sicuramente queste iniziative sono volte a promuovere e a valorizzare anche i prodotti tipici del luogo Assolutamente sì Il vino di Palizzi naturalmente è un vino famosissimo e fa parte del paniere dei prodotti identitari del parco d'Aspromonte Recentemente è stato approvato un regolamento e il vino di Palizzi chiaramente entra a pieno titolo nel nostro paniere dei prodotti tipici Noi ci auguriamo anche in questo caso che mettendo insieme le forze si riesca a promuovere si riesca ad andare avanti Tutto questo sempre in favore di tutto il territorio del parco nazionale d'Aspromonte Quindi un lavoro sinergico insieme al comune di Palizzi Slow Food e l'ente parco d'Aspromonte Assolutamente sì perché tutte le istituzioni si sono rese conto che bisogna fare sinergia bisogna fare rete per poter andare avanti e per poter offrire qualcosa alla gente per poter dare speranze e per poter dare nuove opportunità Un'occasione per inventare il Rosso Palizzi Finora il Rosso Palizzi era stata occasione saltuaria di eventi che ovviamente tendevano sicuramente a esaltare quello che è la bontà di un prodotto enologico eccezionale ma sicuramente non era proiettato in una storia dell'evento stesso Stasera inauguriamo per la prima volta il Free Wine in collaborazione con il Parco Nazionale Aspromonte Consolo Food e con l'Officione delle Idee perché vogliamo far sì che questo sia un evento storicizzato cioè che non finisca qui che non sia un evento spot ma che sia un evento che possa perpetuarsi negli anni e far sì che il vino di Palizzi diventi un simbolo identitario dell'aria Quindi un'iniziativa che volta a valorizzare i prodotti tipici del luogo Il vino è riconosciuto, è rinomato nell'area grecanica che è un fiore all'occhiello che dà un certo valore a quello che è la cultura del vino ma anche del cibo Vogliamo esaltare il vino che è il prodotto finale ma che sicuramente è frutto del lavoro di persone che lo sanno lavorare, lo lavorano bene e a cui l'amministrazione comunale sta dando parecchia attenzione anche attraverso interventi pubblici che da qui a poco sortiranno gli effetti voluti anche attraverso la realizzazione di un laboratorio per il miglioramento della qualità vitivinicola Quindi sicuramente non è l'inizio c'è una continuità C'è un disegno, c'è un'organizzazione c'è una programmazione appunto dicevo non è un evento spot un evento casuale a caso oggi succede questo e rientra in una programmazione dell'amministrazione comunale che è proiettata 5, 10, 15 anni Non è a caso che è un'iniziativa quindi che si collabora insieme alla Slow Food Collaboriamo con gli attori del territorio con gli attori istituzionali con gli stakeholder con chi produce, con chi realizza con chi dà risvolti positivi al territorio e all'economia locale Quindi un plauso anche al lavoro sinergico che si ha con le altre associazioni che hanno un unico obiettivo quello di valorizzare i prodotti del territorio Bisogna fare massa critica bisogna riuscire ad essere competitivi stando insieme e all'economia in un'altra salta in un'altra salta in un'altra salta in un'altra salta per farvi per la laglia sull'artiglia in un'altra salta Sì, entriamo ancora una volta a pieno merito in quelle che sono le attività che sul territorio vengono svolte dal punto di vista gastronomico. Nel fatto specifico è un'animazione gastronomica che il Parco Nazionale d'Aspromonte, con il quale in diverse occasioni abbiamo già collaborato, ci ha chiesto di organizzare sul territorio che la nostra condotta presidia. Perciò abbiamo tre momenti importanti, il primo è questa festa del vino di Palizzi, denominata poi Free Wine, che è bellissimo, il concetto di libero, in quanto il vino rende libera la mente. Un buon bicchiere di vino rende libera la mente. Ma è soltanto una delle attività perché il 25, sempre in collaborazione con l'ente Parco, stiamo per organizzare uno show cooking a Piazza De Nava a Reggio Calabria, in collaborazione anche con il Museo archeologico e il 12 agosto saremo a San Giorgio Morgeto, nel contesto di un'attività già presente sul territorio che è la festa medievale. Noi presenteremo anche là una serie di animazioni gastronomiche, di degustazioni, sempre legate a quelle che sono le specificità dei territori in cui noi andiamo ad inserire questi momenti ludici. Come mai la condotta Slow Food ha patrocinato l'evento insieme al comune di Palizzi e l'ente Parco d'Aspromonte e l'officina delle idee? La condotta Slow Food intanto non ha patrocinato, ma dove sul territorio esistono delle forze, che siano istituzionali o no, che hanno delle intenzioni positive nei riguardi del territorio, che affrontano le tematiche legate al cibo e a quello che il cibo può rappresentare come rivoluzione di modo di essere e di modo di fare, la condotta Slow Food è sempre vicina e sostiene queste attività. Con l'ente Parco già in passato abbiamo svolto diverse attività in collaborazione, perciò anche in questo caso dove il ritorno dell'evento clou dell'anno in Italia che si occupa di cibo, cioè dell'expo, non ha soltanto un rapporto verso l'expo ma anche da l'expo verso i territori, ecco che ai territori ritorna l'argomento cibo e chi meglio di una condotta può parlare di cibo sul territorio. Parliamo della progettualità di Slow Food nell'area grecanica. Slow Food nell'area grecanica ormai sono dieci anni di attività, sono dieci anni di micro e macro progetti di cui siamo molto soddisfatti. La cosa più importante sulla quale in questo momento stiamo lavorando è che ci proietta in un immediato futuro che non è soltanto l'area grecanica a comprendere questo tipo di argomento, ma l'intero territorio regionale. Noi ci stiamo occupando attivamente di grani autoctoni, di grani antichi. Abbiamo riscoperto, anche se a macchia di leopardo, la presenza su tutto il territorio della nostra regione di consistenti giacimenti di questi grani. Pensiamo che possano essere un motivo di sviluppo, pensiamo che attraverso anche un approccio scientifico si possa arrivare ad ottenere dei risultati che ritornino poi ai contadini anche in termini di reddito e il progetto di questa comunità regionale sul grano, che parte dalla comunità del cibo del grano in Aspromonte, possa sicuramente essere l'attività che nel futuro ha un sistema di progetto più efficace ed efficiente. Prima parlavamo di Expo 2015, qual è la visione di Slow Food? Ci vorrebbero due giorni per parlare soltanto di questo argomento. Slow Food si è sempre posta, fin dall'inizio, dopo la presenza al tavolo progettuale di Expo di Petrini, che abbandonò questo tavolo progettuale ritenendo non idoneo il sistema di progettazione. Slow Food si è posta in maniera molto critica. Poi si è deciso, e questo è stato motivo di tanta discordia anche all'interno del movimento, di essere presenti ad Expo, perché giustamente il messaggio che Slow Food lancia, il messaggio che lega il cibo a principi di buono pulito e giusto, di buono pulito e giusto, è importante che in una manifestazione così grande, così con questa valenza universale, è importante che chi ha delle idee nuove, una politica nuova, un nuovo modo, che non è un nuovo ma è un antico modo di vedere il cibo e l'alimentazione al centro, di nuovo al centro delle nostre abitudini, del nostro essere sui territori, del nostro vivere anche in famiglia, allora è importante che ad Expo Slow Food ci sia e faccia presente il proprio punto di vista. Buonasera a tutti. 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 Alcanturella e le percussioni! Promenico Saravo! Alcanturello e i Baccamarevati! Svolta! Partito! 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 Al passare il tricolo Fino pronto Allora, vai, 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 vai E poi lì buccio Dormire siamo molto anni offranda Ando qui è il pro Allora, vai, vai, vai Usa Chuk, 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 chuk Chuk, 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 chuk Chuk, chuk Prendi, vento Parcaglia Vai, vento Vai, vento Vai, vento Vai, vento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti